La tradizione è fondamentale nella storia del mondo, nella storia dell'uomo. Ogni generazione si porta dietro un pezzo di passato per guardare al futuro. Ma questo è un libro di una difficoltà estrema per me, perché la difficoltà estrema, oltre ad augmentarsi, è stata renderlo semplice agli altri. La storia del mondo in 400 pagine scritte larghe era veramente difficile da sintetizzare, però credo di esserci riuscito piuttosto bene, documentando tutti gli eventi più importanti, che non sono le battaglie, ma sono le grandi trasformazioni volute dall'uomo, dalla rivoluzione agricola a quella scientifica, a quella industriale, a quella che stiamo vivendo adesso, la rivoluzione scientifica che durerà ancora per chissà quanto. E poi il libro è pieno di curiosità. C'era una canzone di De Andrè, peraltro presa da un'antologia di Spoon River, che diceva che per stupire mezz'ora basta un libro di storia. Ebbene, è vero, ma con questo libro si stufisce per sei mesi, volendo.